Mi dispiace anche a me personalmente che non ci sia Geminello Alvi, siamo stati insieme del resto tutta la mattinata di ieri per cui abbiamo ragionato insieme sul tema comunità e federalismo. Un tema comunità e federalismo che Geminello declina ricorrendo spesso al pensiero olivettiano, cioè allo Stato federale delle comunità di Adriano Olivetti, che è solo uno dei tanti autori che costellano la cultura politica di questo paese relativamente al tema federalismo e comunità territoriali. E' solo uno, Geminello ha questa forte simpatia, ci sono anche altri autori che hanno declinato questo tema. Il tema del risveglio delle comunità volontarie territoriali che rialzano la testa e come espressione, diciamo come reazione ai processi di globalizzazione, è un tema che in Italia, in Europa, nel mondo è all'ordine del giorno. E noi dobbiamo allora declinare in modo nuovo il sacrosanto diritto all'autodeterminazione. Bisogna declinarlo in modo nuovo pensando al diritto all'autodeterminazione come alla volontà di stare come si vuole e con chi si vuole. Questo essenzialmente ce lo dimostra il referendum dell'altro giorno in Inghilterra. E la via maestra è appunto quella referendaria. Un antico maestro che è Gianfranco Miglio diceva che con il consenso della gente si può fare di tutto. Si possono cambiare i governi, cambiare gli stati, cambiare le bandiere. Dall'altro ieri dobbiamo dire che si può anche uscire dall'Unione Europea, integrando la riflessione del professor Miglio. La valorizzazione delle comunità volontarie territoriali non può che passare evidentemente da forme fortemente decentrate di ordine politico. Proprio per fare delle comunità volontarie territoriali una risorsa, una grande risorsa, facendo leva sul concetto, sul principio di autonomia. Il principio di autonomia qualsiasi manuale di storia delle dottrine politiche ve lo definisce come la non dipendenza dallo Stato centrale. Che cos'è l'autonomia? È la non dipendenza dallo Stato centrale. Allora, se ricorrendo al principio rideclinato di autonomia, promuovendo l'autodeterminazione, si costruisce un ordine politico fortemente decentrato, forse è questa la strada maestra per reagire alla sfida dei tempi. Miglio diceva che questo tipo di modello, questo tipo di modello fondato sull'autonomia delle comunità volontarie territoriali e fondato su forme fortemente decentrate, è sostanzialmente il neofederalismo. In realtà si tratta del federalismo disaggregativo, cioè di quel federalismo per intenderci la strada che ha seguito la Spagna, che ha seguito il Belgio, cioè attraverso momenti di successiva federalizzazione, il Belgio è riuscito dal 68 al 93, dal 68 quando definisce la frontiera linguistica, al 93 quando viene scritto la Costituzione federale, a realizzare lo Stato federale partendo dallo Stato centralista, che era ancora quello della monarchia del 1830. Questo per dire che i processi di federalizzazione non sono dei processi immediati, il federalismo, il decentramento non si ottiene per decreto domani mattina, il federalismo è un percorso lungo, il Belgio ci ha messo un quarto di secolo per arrivare a realizzarlo, la Spagna, lo Stato, il federo regionalismo spagnolo fondato sulle realtà autonomiste spagnole, anche quello ha avuto una genesi molto lunga. Però questa probabilmente è la strada per, come dire, soddisfare, per valorizzare il pluralismo culturale, identitario, economico, sociale, delle comunità volontarie territoriali che costellano, che caratterizzano questa penisola, che non è solo costruita sul clivage tra nord e sud, ma è anche costruita su un clivage che è quello tra est e ovest. Basta guardare le recenti cartine dell'Istat per rendersi conto che sono due le fratture che determinano l'articolazione delle comunità volontarie territoriali. Sicuramente Miglio, ovvio, è abbastanza scontato che lo dica io, è un autore da riscoprire, ma ce ne sono tanti altri. C'è un politologo di Harvard, che è Robert Putnam, che nel 1992 ha scritto le tradizioni civiche nelle regioni italiane, che è da riscoprire, perché quando parla di virtù civiche, di virtù di senso, di probità, di dedizione al lavoro, delle fratture che percorrono dal punto di vista dei modelli di cultura e di comportamento in questo paese, ci ha detto delle cose oltremodo interessanti. C'è un altro autore che secondo me è da riscoprire, e che è un autore che è uno dei padri del liberalismo italiano, è Marco Minghetti. Marco Minghetti, al ministro degli interni di Cavura, alla fine dell'Ottocento, pensa a un ordine politico di questa penisola fondato su sei macro-regioni, che sostanzialmente sono i sei stati preunitari, e immagina i comuni, i consorsi di comune come essenza delle province, i consorsi di province come essenza delle regioni. E questo certifica che nella cultura liberale di questo paese, fin dalla classe politica che fa l'unità nel 1861, c'è una dose di self-government, cioè di sensibilità all'autonomia, all'autogoverno, nella libertà fiscali, che è un'essenza della cultura politica del liberalismo italiano. proprio perché guardava a Londra, guardava all'Inghilterra come a uno dei punti di riferimento, pensate a Cavour come guardava a Londra e all'Inghilterra come uno dei punti di riferimento della cultura politica del liberalismo italiano. E' del tutto evidente che, di fronte a questo scenario, la riforma che, e questo è il problema vero, io trovo, la riforma che saremo chiamati a votare al referendum, e con questo concludo in autunno, va esattamente nella direzione opposta. A parte il fatto che, dal punto di vista politico, io trovo risibile che nel 2001 il centrosinistra faccia una riforma, nel 2016 faccia la riforma esattamente di senso opposto, salvo nel corso di questi 15 anni ostentare e imporre al Paese, dire al Paese, dire al centrodestra, giù le mani dalla Costituzione, la Costituzione non si tocca, è la Costituzione più bella del mondo, secondo me perché non hanno letto le altre, però è la Costituzione più bella del mondo e quindi non si deve toccare. Sta di fatto che, dal punto di vista politico, questo è, secondo me, inaccettabile, perché è una riforma che dà e che toglie, nel senso che sembra riconoscere il sistema delle autonomie locali col nuovo Senato, poi nello stesso tempo con l'altra mano toglie, perché toglie le competenze del 117. è costruita su grandi contraddizioni al loro interno. La legge con la quale verranno eletti i futuri senatori, che è la legge che i consiglieri regionali che diventeranno senatori, è scritto nella riforma, verrà approvata all'indomani del referendum da entrambe le Camere, ma se una io l'ho tolta con la riforma costituzionale, come faccio a provarla in entrambe le Camere? Perché una Camera mi manca. È una Costituzione davvero contraddittoria nella sua struttura. È una contraddizione che stride con l'articolo 5, con questa riflessione volevo concludere, con l'articolo 5 della Costituzione. Al di là di quello che ci ha detto Calamandrei sull'articolo 5, l'articolo 5 dice due cose importanti. La prima è che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, vale a dire le comunità territoriali. riconosce vuol dire che le comunità locali preesistono rispetto alla Repubblica. La Repubblica le riconosce perché esistono e le promuove. Non solo, ma essendo tra i principi fondamentali l'articolo 5, in qualche modo sanziona una sorta di diritto all'autonomia per ogni cittadino. Non è solo una dinamica istituzionale, quella di riconoscere e promuovere le autonomie locali, ma essendo tra i diritti fondamentali il diritto all'autonomia è anche un sacrosanto diritto dei cittadini. Per questa ragione la riforma ha dei tratti che sono al limite dell'incostituzionalità. E allora nel momento in cui io vado a revocare nel 114 le province, che è vero che sono un ente costituzionale, ma è vero anche che proprio perché sono in Costituzione sono anche un ente qualificativo, un ente qualificante della democrazia italiana. Nel momento in cui le revoco, è chiaro che io tolgo un pezzo di democrazia, e nel momento in cui trasformo le province in enti di secondo livello, togliendo al cittadino la possibilità di eleggerli, io davvero arreco un danno alla democrazia praticata in questo Paese. Perché un ente nel momento in cui è iscritto in Costituzione, non è solo un ente costituzionale, ma è anche un ente qualificante della democrazia italiana. Ecco perché io credo che la battaglia campare da combattere in autunno sia proprio quella di fronteggiare una riforma che ha questi tratti così assurdi e davvero dimostra che le riforme bisogna farle, ma bisogna farle sempre con serietà e con competenza. Grazie.